Questo potrebbe essere il periodo più pericoloso che il mondo abbia visto da decenni. A dirlo non sono io, ma Jamie Dimon, l'amministratore delegato della banca più grande degli Stati Uniti, JP Morgan. Salve a tutti, Marco Casario qui e cosa ha portato il miliardario a fare un'affermazione così forte? Jamie Dimon ha elencato una serie di rischi che potrebbero mettere in difficoltà l'economia globale ed i mercati finanziari. I punti che ha toccato commentando gli utili del terzo trimestre di JP Morgan, che hanno battuto le aspettative e sono andati benissimo, vedono la problematica di un'inflazione che fatica a tornare al 2% e che costringe quindi le banche centrali a tenere i tassi di interesse a livelli che non si vedevano dal 2007. Il debito pubblico elevato e che continuerà a crescere per motivi di cui vi parlerò dopo nel video. I conflitti tra Russia e Ucraina, Israele e Hamas e la continua guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Beh, tutto ciò potrebbe essere un mix potenzialmente disastroso per l'economia globale. Un uomo di business del calibro di Jamie Dimon ha lanciato l'allarme e quindi cosa dovremmo fare noi, comuni mortali? Vediamo intanto cosa effettivamente ha dichiarato il CEO di JP Morgan. Secondo Dimon, la prolungata guerra tra Russia e Ucraina e le tensioni in Medio Oriente potrebbero avere impatti di vasta portata. A risentire di tutta la situazione potrebbero essere soprattutto i mercati energetici, alimentari, il commercio globale e le relazioni geopolitiche. Tutto ciò potrebbe avere ripercussioni sull'inflazione che, anche se sta rallentando, si sta comunque rivelando ostinata. In tutti i paesi del G7 si trova ancora ben al di sopra del target delle banche centrali, che è il 2%. E un'inflazione che rimane alta costringe le banche centrali a mantenere i tassi di interesse più in alto per più tempo. Quello che ormai da mesi è stato un po' un mantra per la Federal Reserve, la banca centrale americana, molto probabilmente diventerà la dura realtà per consumatori ed imprese nei prossimi anni. I tassi più alti rappresentano un problema per chi vuole acquistare una casa, una macchina o contrarre un qualsiasi prestito. Quando le banche centrali aumentano il loro tasso di riferimento, tutti gli altri tassi nell'economia si muovono nella stessa direzione. Con la Fed che ha aumentato i tassi ad un intervallo tra il 5,25% e il 5,50%, i tassi sui mutui negli Stati Uniti si trovano in questo momento sopra al 7% e sembra ormai inevitabile che arriveranno a toccare l'8%. Lo sapete che cosa vuol dire comprarsi casa con un mutuo a 30 anni ed un tasso di interesse all'8%? Beh, che molti non se la potranno permettere. I tassi di interesse delle carte di credito invece sono ai massimi storici, sopra al 20% e sebbene questo non è un problema per i titolari delle carte che pagano il saldo per intero e in tempo, lo è invece per chi mantiene un saldo di mese in mese. I risparmi in eccesso della pandemia si sono erosi. Solo il 20% della popolazione più ricca è rimasta con i risparmi extra, quelli che sono stati accumulati tra il 2020 e il 2021. E il restante 80%? Le famiglie più povere in termini di reddito adesso hanno depositi bancari e altre attività liquide che sono inferiori rispetto al marzo del 2020. Questi risparmi in eccesso sono serviti per sostenere la spesa, ma stanno terminando. La crescita dei salari nominali dei cittadini americani supera a malapena l'inflazione. Questo significa che, nonostante guadagnino di più sulla carta, in realtà possono permettersi di meno rispetto a due anni fa, quando l'inflazione era molto più bassa, prossima allo zero, lasciatemi dire. E quindi cosa sono costretti a fare? Beh, la maggior parte degli americani fa sempre più affidamento alle carte di credito per pagare le bollette. Il debito totale delle carte di credito ha superato per la prima volta il trillion dollar, bilione di dollari, nel secondo trimestre del 2023. Allo stesso tempo sono aumentati anche i tassi di insolvenza sui prestiti con le carte di credito. Seppure a livelli storicamente bassi, stanno comunque salendo rapidamente. Di questo passo potrebbe non volerci più molto ad arrivare a dei livelli molto preoccupanti. Ma il dolore economico non finisce qui, purtroppo. I tassi più alti sono potenzialmente letali anche per le aziende. Fino a due anni fa era piuttosto facile per le imprese trovare acquirenti per il loro debito nei mercati dei capitali o ottenere finanziamenti dalle banche. Con i tassi di interesse bassi le società sceglievano di rifinanziare il proprio debito, ottenendo una maggiore flessibilità operativa, più risorse di cassa e profitti più interessanti grazie alla diminuzione degli interessi passivi. Ma ora che l'era del denaro facile è finita, le aziende potrebbero dover rifinanziare il loro debito a tassi che non possono più permettersi, soprattutto se la crescita dei loro utili rimane stagnante. E quando le cose si mettono male per le imprese, qual è uno dei primi costi che decidono di tagliare? Beh, quello del personale. Tagli di posti di lavoro si traducono in redditi inferiori. Ritrovandosi con meno denaro i consumatori sono costretti a diminuire la loro spesa, tagliando ad esempio gli acquisti di beni e servizi discrezionali. E come sappiamo la spesa dei consumatori è il motore dell'economia. Le aziende che proprio non ce la faranno saranno costrette a dichiarare banca rotta. E secondo i dati, fino ad agosto 2023 i fallimenti aziendali negli Stati Uniti da inizio anno hanno superato i totali annuali sia del 2021 che del 2022, che era il periodo in cui c'è stato il Covid, abbiamo dovuto affrontare il Covid. Beh, anche l'America sta accusando i tassi più alti. Proprio come aziende e consumatori anche il governo deve pagare più interessi sul proprio debito. Il debito pubblico statunitense rimane vicino al livello record raggiunto con gli stimoli pandemici e si prevede che esploderà nei prossimi anni. È solo che ora il governo è costretto a sborzare di più per pagare gli interessi del suo debito esistente. E questo potrebbe valere anche per le emissioni di debito future, visto che probabilmente i tassi rimarranno così in alto per più tempo. Emissioni di titoli di Stato che, anziché rallentare, stanno aumentando. Vedete, in una conferenza stampa il direttore della ricerca del Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, ha dichiarato che la situazione fiscale degli Stati Uniti, ascoltate bene, è la più preoccupante tra tutti i paesi del mondo. Parliamo dei titoli di Stato che fino a ieri erano i più sicuri al mondo. I ricercatori della Penn Wharton School hanno avvertito che di questo passo gli Stati Uniti potrebbero andare in default sul proprio debito da qui a soli 20 anni. Ciò è in gran parte dovuto al ritmo rapido della spesa pubblica. Come fa a notare Diamond, gli Stati Uniti si trovano ad avere il deficit fiscale più grande mai registrato in tempo di pace e la spesa americana non sembra destinata a diminuire. Il governo è anzi determinato a pagare il prezzo della transizione energetica e man mano che la popolazione invecchia, la spesa sanitaria e pensionistica non fa altro che aumentare. Al momento la banca centrale non sta coprendo le spalle al governo. Anzi, la Fed sta ancora procedendo con il suo programma di quantitative tightening, ovvero sta riducendo il suo portafoglio di obbligazioni. Gli effetti del programma, come ha fatto notare proprio Jamie Dimon, sono ancora un'incognita. Nessuno sa che cosa succederà e come andrà a finire. Quello che è certo è che, almeno per il momento, la Fed non è più un acquirente di titoli di Stato ma un venditore di titoli di Stato. E mentre il deficit esplode e il debito diventa più costoso, Washington è sempre più divisa e instabile. Ad oggi c'è ancora il rischio di uno shutdown del governo. Il congresso deve ancora raggiungere un accordo sui finanziamenti governativi per il 2024. L'accordo dell'ultimo minuto del mese scorso manterrà il governo operativo solo fino a metà novembre. A complicare le cose, poi, c'è il fatto che il congresso deve scegliere un nuovo presidente della Camera, dopo che McCarthy è stato silurato, volevo dire estromesso, dal ruolo proprio poche settimane fa. Ma perché la chiusura del governo dovrebbe aggiungersi alla lista dei problemi? Perché costa denaro. Considerate che l'ultimo shutdown del governo degli Stati Uniti ha ridotto il prodotto interno nord americano di 3 miliardi di dollari. La perdita di produzione da parte dei lavoratori federali in congedo, il ritardo, la perdita della spesa pubblica e dei pagamenti salariali, nonché la riduzione della domanda, sono costati in totale all'economia 11 miliardi di dollari nel breve termine. E poi ci sono le tensioni geopolitiche che rappresentano una minaccia veramente significativa per l'economia globale. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha destabilizzato i rapporti commerciali e i mercati di diverse materie prime, di cui i due paesi sono grandi esportatori. Per colpire Mosca, le nazioni del G7 hanno applicato diverse sanzioni e restrizioni che riguardano principalmente l'importazione e l'esportazione di beni. La decisione più importante, ce la ricordiamo bene, è stata l'implementazione di un tetto sul prezzo del petrolio russo trasportato via mare. Il limite era stato fissato ad un massimo di 60 dollari al barile. E ci sono state sanzioni che sono state fatte pagare da aziende che non avevano rispettato quel limite. Chiunque infatti accetti di acquistare ad un prezzo superiore è soggetto a delle multe. Recentemente, per esempio, gli Stati Uniti hanno sanzionato due petrolieri a accusare di aver violato il limite massimo del prezzo per il petrolio russo. E poi, come se non bastasse, c'è questa guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che è iniziata sotto Donald Trump e che non mostra segnali di allentamento. Gli Stati Uniti hanno applicato infatti diverse restrizioni sul commercio e sulle esportazioni di tecnologie verso la Cina. Considerate che l'amministrazione Biden sta perfezionando le ultime regole volte a tener fuori dalla Cina i microchip avanzati, attrezzature di produzione, cercando di limitare l'accesso del suo rivale geopolitico a tecnologie all'avanguardia. In ballo qui c'è la sovranità tecnologica. Nel quadro geopolitico adesso si è aggiunta anche l'ultima guerra tra Israele e Hamas. Il conflitto rischia di coinvolgere altre nazioni del Medio Oriente e ha il potenziale di alimentare un'altra ondata di pressioni inflazionistiche. Lo scenario peggiore si verificherebbe se un escalation portasse Israele in un conflitto diretto contro l'Iran, che è il fornitore di armi e di denaro di Hamas. Quest'anno l'Iran è stato fondamentale per il mercato petrolifero, arrivando a rappresentare la seconda fonte di offerta mondiale, mentre l'Arabia Saudita e la Russia hanno tagliato la produzione del greggio. In questo scenario i prezzi del petrolio potrebbero subire una grande impennata, con conseguenze deleterie sulla produzione mondiale. Come dovremo comportarci di fronte a tutte queste incertezze? Jamie Dimon sta preparando la sua azienda per una ampia gamma di possibilità, in modo da poter portare risultati ai propri clienti indipendentemente dall'ambiente economico. Direi che è quella a cui tutti quanti dovremmo mirare. Quando l'incertezza è così elevata e ci sono tanti fattori che si combinano per rendere le cose potenzialmente negative, beh è meglio adottare maggiore cautela, ridurre il rischio, mentre la situazione prende meglio forma e ci fa capire meglio come comportarci. Bene, direi che per questo video è tutto, fatemi sapere, lasciatemi qui sotto un commento per dirmi se vi è stato utile, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!